Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del nostro telegiornale è dedicata alla manifestazione di protesto organizzata dinanzi all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela. Inaccettabile la chiusura dell'unità operativa complessa di malattie infettive del nosocomio. Vediamo. Chiude all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela il reparto di malattie infettive per carenza di personale medico. Otto posti letto che sono stati accorpati al reparto di medicina. I casi più gravi vengono dirottati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove c'è un reparto, l'unico in tutta la provincia di Caltanissetta, che dispone attualmente di dieci posti letto. Il nursing del sindacato degli infermieri per protestare contro quello che considera un altro scippo alla sanità gelese ha organizzato questa mattina un sit-in proprio davanti al piazzale antistante all'ospedale di Gela. L'unico medico che prestava servizi è andato in pensione e la direzione sanitaria non ha potuto fare altro che chiudere il reparto. Il motivo della protesta è la chiusura del reparto di malattie infettive, quindi siamo qui per dire il nostro basta a questo continuo scippo nei confronti della sanità gelese. Sappiamo che il management aziendale si è mosso aprendo dei bandi, però comunque la programmazione secondo noi non è stata buona. Sicuramente il direttore di presidio, il dottore Fiorella, si è speso tantissimo per questo problema coprendo lui stesso i turni mancanti dei medici, però nonostante ciò siamo arrivati al punto della chiusura del reparto. La direzione generale si era attivata per cercare di reperire personale medico specialistico a fine, ma è pur vero che si è mosso con grave ritardo, noi accusiamo questo, il grave ritardo che poi effettivamente alla fine ha portato alla chiusura del reparto. Bisogna sottolineare l'operato del direttore sanitario del presidio spedaliero che più volte indossando il camice è andato a sopperire alle carenze organiche. Al giorno d'oggi il reparto di malattie infettive è chiuso, che ne dica l'azienda, che i pazienti vengono spostati in medicina, ma non è così perché per patologie diffusibili è previsto il trasporto in altri nosocomi, precisamente presso il sandalia di Caltanissetta. La protesta è rivolta un po' a tutti i capocci che abbiamo, perché a questo punto ci sentiamo presi per puntini e puntini, per puntini e puntini. Io ho lottato, non che io ho lottato per carità, io l'ho fatto con tutto il cuore, avendo vissuto un'esperienza del genere per ben 22 anni, che io ho avuto un marito ammalato di cirrosi epatica, trapiantato con tanti problemi, quindi la cosa mi brucia ancora più di come se ci fosse mio marito. Perché io vedo questi poveri sventurati, c'è chi ce l'ha un parente, qualcuno che si interessa, e chi non ce l'ha dove deve sbattere le cornici? È stato presentato dall'amministrazione comunale di Gela questa mattina in via Rio de Janeiro il nuovo servizio delle isole ecologiche. Vediamo. Siamo qui in via Rio de Janeiro, uno dei quartieri in cui è stata posizionata l'isola ecologica presidata con un infopoint per accompagnare la città tutta, che ha utilizzato fino a oggi quest'area come una discarica a cielo aperto, appunto per accompagnarli in un processo migliorativo di differenziare. Da oggi vige il nuovo calendario ridisegnato per migliorare, per rendere più semplici le operazioni di differenziazione dei rifiuti, plastica e metalli in un unico sacco, che è quello giallo che solitamente veniva utilizzato per la plastica, il vetro nell'apposito contenitore che è in via di distribuzione, qualora non lo si fosse ricevuto si può ancora utilizzare il carrellato di prossimità, in attesa appunto che tutti i quartieri vengano raggiunti dalla distribuzione del kit. Nessun stravolgimento sui calendari, un giorno in più per l'umido il sabato cercando di agevolare il cittadino che ha la necessità, soprattutto nel nostro territorio, di non avere rifiuti maleodoranti a casa, per contro la riduzione ad un giorno del secco residuale. La motivazione sta nel fatto che differenziando correttamente il secco residuale rappresenterà un sacchetto non più grande di un sacchetto della spesa, con rifiuti che non sono maleodoranti perché appunto sono secchi residui e quindi possono rimanere tranquillamente una settimana a casa in attesa del martedì in cui verranno ritirati. Ricordo a tutti che vige l'obbligo di non utilizzo di sacchi neri o che non permettono la facile individuazione dei rifiuti, diciamo che questa settimana si avrà un po' di tolleranza dalla settimana successiva quei sacchi verranno automaticamente multati perché c'è l'obbligo di lasciarli in prossimità del numero civico per cui ogni cittadino deve attenersi alle regole stabilite dall'ordinanza sindacale e dai volandini che sono stati distribuiti in maniera massiva presso tutti i numeri civici e comunque presenti negli infopoint dove le ragazze della Tecra sono disponibili a dare tutte le informazioni e a recuperare eventuali lamentele su disservizi o quant'altro. Pannolini è un servizio dedicato a chi ha necessità specifiche quindi perché ha dei neonati o degli indigenti a casa basta che chiami il numero verde della Tecra, indichi le proprie esigenze, il numero civico e ci sarà quindi questo servizio dedicato con il ritiro porta a porta quotidiano. Già 125 famiglie ne fanno uso quindi non abbiate timore, il numero verde della Tecra è disponibile per qualsiasi esigenza il personale del comune e della Tecra è disponibile a dare tutto il supporto affinché in debbi brevi si raggiungano obiettivi ambiziosi sulla quota di differenziata raggiungibile in questa città. Le famiglie e gelesi degli allunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016 lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela la domanda di partecipazione unitamente sui allegati dovrà essere presentata appena di esclusione entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli allunni delle scuole primarie e secondarie inferiori statali e paritari ovvero i liberi consorsi comunali per gli allunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ma anche lo stesso studente se maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro i moduli di domanda vanno ritirati presso la scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela adesso ci occupiamo della scoperta da parte di Caltacqua e Sicilia Acqua di ben 5 allaccia abusivi la lotta contro gli impianti fuori legge continua, sentiamo Giro di vite di Caltacqua e Sicilia Acqua e contro gli allaccia abusivi 5 quelli scoperti in questo fine settimana lungo la statale 115 nei pressi del Bivio per Licata si tratta di una condotta che serve anche parte della provincia nissena in particolare la zona di Gele Butera dove peraltro si trovano anche resort e altre strutture ricettive che in maniera particolare in questi giorni vedono naturalmente moltiplicare la loro esigenza di acqua il sistema di allaccia abusivi secondo la prima stima fatta subito dai tecnici di Sicilia Acqua era in grado di sottrarre indebitamente e illecitamente qualcosa come 30-40 litri di acqua al secondo una quantità di per sé assai già ragguardevole che diventa una manca ancora più pesante se si considera che questa illecita captazione crea inevitabilmente ripercussioni negative sull'intera utenza deprimendo la pressione in acquedotto sfavorendo soprattutto le zone più alte una penalizzazione doppia per gli utenti regolari e quali non si riesce ad assicurare il giusto rifornimento idrico il via all'ultima capillarazione di monitoraggio è scattato dopo che a causa delle notevoli perdite registrate lungo l'acquedotto Gela Licata che è utilizzata in questa stagione esclusivamente per approvvigionare le utenze della zona di Manfrede, Nutella e De Susino Falconare, zona marittima di Licata, Sicilia Acqua provveduta a isolare la zona maggiormente sotto osservazione installando delle saracinesche di linea e alimentando Manfrede, Nutella e De Susino con l'acqua potabilizzata a Gela Falconare e Licata invece sono state alimentate con l'acqua del Fanaco il campanello d'allarme nella fattispecie è stato la segnalazione di una fuoriuscita di acqua sulla strada statale 115 nei pressi del bivio di Licata dopo sei ore di utilizzo delle pompe è stato possibile effettuare lo scavo che ha portato alla sorprendente e sconcertante scoperta di ben cinque impianti abusivi per il prelievo illecito di acqua dalla condotta principale uno di questi cinque allacce abusivi aveva ceduto provocando la fuoriuscita di circa 30 litri di acqua al secondo completato l'intervento tutte le uscite irregolari sono state cecate ripristinata la regolare fornitura idrica alle zone turistiche a quella di Falconara in particolare sulla vicenda Sicileacqua è immediatamente presentato formale denuncia alle forze dell'ordine perché possano ad indagini concluse individuare i responsabili di questi allacci abusivi impianti che come più volte sottolineato oltre ad arrecare un considerevole danno al gestore del servizio idrico in termini di risorse sottratte di canoni non corrisposti danneggiano soprattutto le utenze irregolari che inevitabilmente vedono gravare sulle loro bollette anche parte di quell'acqua che i furbetti del contatore utilizzano a costo zero al via l'edizione 2016 del corso di iconografia i volti della misericordia promosso dall'opera Pia Pignatelli Roviano di Gela e condotto da maestri dell'atelier San Vladimir di Siracusa il corso formativo avrà inizio il 17 agosto prossimo e si concluderà il 27 sono previste lezioni frontali e laboratori creativi le iscrizioni saranno effettuate mercoledì 10 agosto dalle 18.30 alle 19 nei locali di via Feace il seminario teorico pratico prevede vari livelli di studio collezioni di teologie estetiche e tecnica oltre alla realizzazione di un'icona secondo l'arte antica bizantina direttore dei lavori sarà la dottoressa Mirella Roccasalva Firenze maestra e iconografa e docente di arte sacra e iconologia il corso è un progetto ideato da Monsignor Grazia Labiso e dal direttivo dell'Opera Pia per informazioni bisognerà contattare il numero 345 4106 243 a Proda Gela il Cry Summer Festival sentiamo il Cry Summer Festival prima di tutto è uno spettacolo uno spettacolo bellissimo dove abbiamo un po' di tutto abbiamo un corpo di ballo, cantanti, attori, un'orchestra dal vivo abbiamo tutto e soprattutto è adatto alle famiglie dai più piccoli che hanno 3 anni fino ai più grandi che hanno oltre 60 anni ogni spettacolo che organizza Gela per me è un onore e soprattutto una scommessa perché in questo periodo organizzare spettacoli è difficile però devo dire che sto avendo la partecipazione di tutti i gelesi a partire dalla scuola di ballo di Laura Villareale a finire commercianti di Gela è una cosa davvero bellissima che tutti si stanno unendo e secondo me l'unione fa la forza e in questo momento mi stanno appoggiando tutti quanti dall'amministrazione comunale ai commercianti di Gela e questo qua fa onore ai cittadini gelesi e soprattutto vorrei dire a tutti quelli che ci stanno vedendo che è vietato mancare perché abbiamo di tutto abbiamo degli acrobati, ballerini, cantanti, attori c'è tutto è una iniziativa, la forza la più grande iniziativa che stiamo facendo d'estate con l'aiuto di Andrea Infurna che ormai è diventato un personaggio famoso a livello nazionale uno spettacolo in piazza giorno 19 agosto 2016 alle ore 21.30 circa e ci sarà questo grande evento che coinvolgerà talenti gelesi e Andrea Infurna In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Liliana Bellardita portavoce del comitato Gelensis Populus le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale ascoltiamo adesso quali saranno i prossimi appuntamenti dell'estate gelese continuano gli appuntamenti inseriti nel cartellone dell'estate gelese 2016 allestito dall'assessorato allo sport, turismo e cultura del comune di Gela questa sera in piazza Umberto I alle ore 21 l'associazione Demetra proporrà il concerto Musiche da Oscar con il gruppo Art Liricum Trio domani sempre alle ore 21 organizzata dalla parrocchia San Rocco terza sagra del melone e dello schiaccino con accompagnamento musicale l'evento si terrà nello spazio antistante la stessa parrocchia ancora domani alla stessa ora Disco Village al lungomare Federico II di Svevia è serata dedicata al teatro con la compagnia Antidoto presso l'arena all'aperto di Macchitella mercoledì sarà la volta della terza sagra del dolce con serata danzante e la musica di DJ Ivano Corso con l'organizzazione ancora una volta della parrocchia San Rocco nel piazzale di Nanzi la Chiesa sempre mercoledì alle ore 21 pontile sotto le stelle con l'associazione Innuendo a lungomare mentre Muretti di Macchitella sarà la volta del concerto live Rock Legend Notte di San Lorenzo a cura dell'associazione Gelica Folk la libreria Mondadori di Gela in collaborazione con l'assessorata alla cultura in occasione del settimo incontro dei venerdì letterari domani alle 19.30 presso l'Eschiro Lab presenterà il libro Intimo ritratto di Valentina Mattia edito da Araba Fenice dialoga con l'autrice e il professore Domenico Seminerio lettura a cura di Lucilla Anzalone accompagnamento musicale a cura di Lino Costa il costume da bagno è forse l'emblema dell'estate e delle vacanze ricorda il mare il dolce far nulla e i viaggi per gli uomini esistono un po' meno varianti mentre gli stilisti sbizzarriscono maggiormente la loro fantasia per quelli femminili c'è il più casto costume intero il due pezzi e persino il trichini in cui la parte superiore e quella inferiore sono levemente legate siamo sicuramente ben lontani dai costumi usati nell'ottocento in cui le donne arrivavano al mare con dei pantaloni sino al polpaccio e abiti sino al ginocchio allora la bronzatura era persino considerata volgare oggi invece non bisogna aver paura di mostrare il proprio corpo dopo aver superato ovviamente la traumatica fase di inizio estate della prova costume non sempre le donne riescono ad affrontare il momento sentendosi completamente bene con se stesse ed ecco che cominciano le diete dell'ultimo minuto per perdere quei chili di troppo importante è sicuramente scegliere il costume giusto che segua non soltanto le tendenze ma che sia più adatto alla propria figura l'estate 2016 è sicuramente frizzante e allegra sono infatti il colore e le fantasie i veri protagonisti spiaggia la tendenza moda di quest'anno è il fiore il fiorato però devo dire che non si sta avventendo tanto perché la cliente sia giovane che meno giovane preferisce le fantasie un po' orientali le fantasie geometriche il fiore diciamo che ancora non decolla anche se quest'anno diciamo appunto c'è stato tanto fiore la donna matura preferisce naturalmente la mutandina alta con delle marche un pochino rinomate delle marche un po' con le coppe conformate mentre la ragazza dal tanchini dal bikini dal brasiliano e così via come costume mi piace tanto i due pezzi blu elettrico sull'arancio anche rosso se è possibile anche il verde comunque questi sono i colori che secondo me dovrebbero andare più di moda mi piace insomma stare alla moda essere alla moda secondo me è una cosa canina preferisco sicuramente il bikini e colori ma io in realtà preferisco il colore scuro nei costumi poi magari qualche variante di colore però sono un po' più tradizionale molto sobria come come tendenze mie quello che mi fa stare bene mi metto se non mi ci vedo non non lo metto in vista della prossima stagione sportiva la società Gela Calcio organizza uno stagio riservato ai giovani calciatori nati nel 98-99-2000 che andranno a far parte della formazione Juniors Bianca Azzurra allenata da mister Alessio Catania lo stagio si svolgerà mercoledì 10 agosto prossima alle 17 verso lo stadio Vincenzo Presti di Gela gli interessati dovranno preventivamente contattare il responsabile del settore giovanile Bianca Azzurro Luigi Rivecchio al numero 349 77 95 798 oppure lo stesso allenatore Alessio Catania al numero 347 039 38 84 dovranno inoltre essere muniti obbligatoriamente di certificato di doneità alla pratica sportiva e di eventuale nulla osta della società di appartenenza oltre ai personali indumenti sportivi e scarpe da gioco massima puntualità e soprattutto buon divertimento giovedì pomeriggio alle 17 allo stadio Vincenzo Presti a Gela e Acragas svolgeranno un allenamento congiunto in vista dei rispettivi impegni stagionali l'allenamento sarà aperto al pubblico continuano a mietere successi gli atleti della Young Runner di Gela per il settore femminile si confermano eccellenze Clara Tasca con il record del percorso nella gara assoluta successiva al record dei 3000 piani raggiunto a Trento e Giorgia Divara piazzata si terza sui quasi 4 km di una gara in cui peraltro non è specialista le atlete gelesi sono oggi le portacolori della società Catania 2000 e si stanno preparando per affrontare le gare per poter accedere alla serie A per il settore maschile primo posto per Samuele Licata nella categoria allievi l'atleta si sta preparando per il raduno con la nazionale prevista alla fine di agosto a Camerino Samuele Licata ha preceduto il compagno di squadra Mario Bianca entrambi tesserati quest'anno con la Milone di Siracusa entrambi hanno stabilito il record del percorso con questa notizia di sport è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti